Definito uno degli uomini più belli e sexy del mondo, oggi Brad Pitt è sottoposto alle critiche di Salvo Filetti e Renato. Ciao! La Swinging London è da sempre centro di moda e di tendenze. A Londra nascono stili e stilisti e Milano celebra lo stile britannico con una mostra, British Fashion in Milan. Una mostra dedicata all'evoluzione della moda inglese negli ultimi anni 50. Grazie per la visione!